è piuttosto bene, non al punto di arrivare a medaglia Alessandro Terrin ha chiamato ad una grande prova di carattere oltre che di talento dovrà misurarsi con Vandeburg e Lisogor e avrà accanto un atleta che come stazza gli effari ha fatto benissimo i primi 50 metri dei 100 Vandeburg con un crono, un passaggio che potrebbe addirittura portarlo al loro di oggi e poi ovviamente c'è da fare i conti con Lisogor che oggi e ma anche con Terrin cambia anche costume Lisogor Non a caso, lo ha fatto il suo connazionale Borisi che ha messo il costume dei miracoli al posto di quello che è adottato al loro nazionale questo oggi tocca a Lisogor, evidentemente si è stancato vuole tentare tutto per tutto, l'ha provato visto che il vantaggio c'è anche nel 50 rara per cui vediamo Terrin in mattinata in batteria una brutta virata in finale un brutto arrivo, oggi non deve sbagliare ovviamente nulla resta un po' sul blocco ma questo potrebbe non essere grave Buonina l'uscita Buonina meglio di lui sotto all'Isogor ma non solo vediamo un po' Gruppo estremamente compatto molto, molto, via via Alessandro potrebbe essere la gara non mollare qui, no, non mollare qui non mollare qui, comunque al bronzo no, neanche ma i... Quarto, 26,79 perché Gangloff dalla corsia laterale fa la consueta sorpresa di lato quindi Lisogor, Gangloff e Cameron Mandeburg a due centesimi Terrin non considerare solo quelli che è accanto pensa anche a quelli sopra e sotto questa vasca ormai dovrebbe averlo insegnato Gangloff è scappato molto bene in uscita di virata e Alessandro non credo non l'abbia visto non cambia nulla in un 50 non c'è differenza però sicuro avere di fianco degli avversari leggermente davanti può aver condizionato insomma dispiace moltissimo perché a 13, scusami, 12 centesimi c'era la medaglia di bronzo e in una gara di questo...